Il tempo sospeso e il dolore che da intimo diventa pubblico, al cospetto del pianto muto della dolorata e di fronte al Cristo, ricurvo sotto il peso della croce, mentre al suono delle marce funebri si fa strada tra il silenzio della folla mutolita, assiepata ai lati delle processioni nelle quali sfilano a passo rallentato i confratelli in abito penitenziale. Sono le rappresentazioni iconiche della passione tratte dalla settimana Santa Pugliese che in omaggio ai rapporti secolari con la Spagna sono state presentate a Bitonto grazie al progetto Plenilugno di Primavera, promosso dalla cooperativa FEART e dall'associazione Puglia Autentica in collaborazione con la Regione Puglia e Puglia Promozione. Questo è un progetto internazionale fortemente voluto dalla Regione Puglia con l'aiutamento di Valadolid che è l'equivalente dell'ente regionale e riguarda questo rapporto stretto tra i riti della settimana Santa Spagnola e quella pugliese e in quella pugliese ovviamente ci sono anche i nostri riti, le nostre statue, le nostre musiche, le nostre tradizioni che da oltre dieci anni sono messe a sistema con altre città tra cui Vico del Gargano, Molfetta, Lecce ma anche altre e facciamo tutti parte di un progetto che si chiama Settimana Santa in Puglia, quindi noi abbiamo voluto aderire ancora una volta al progetto e partecipare attivamente anche alla missione internazionale portando le nostre musiche, soprattutto quelle di Carelli, a Valadolid e ospitando questa mostra nella Galleria Nazionale della Puglia. Settimana Santa in Puglia, Plenilugno di Primavera, arriva anche a Bitonto. Sì, dopo la tappa di Valadolid, questa splendida città spagnola dove abbiamo presentato e raccontato quelle che sono le nostre tradizioni legate agli eventi pasquali, oggi siamo qui a Bitonto all'interno della Galleria Nazionale per una settimana, quindi fino al 12, con questa rassegna di immagini fotografiche che raccontano quelli che sono i momenti più importanti dei riti pasquali della nostra regione insieme con le immagini dei riti pasquali della famosa città spagnola di Valadolid. Poi proseguiremo per Morfetta per avere poi una tappa a Lecce nel mese di maggio con un convegno sulla pietà popolare, per proseguire poi a luglio con la mostra che si sposta a Vico del Gargano, quindi un percorso lungo di promozione e di conoscenza di quelli che sono i nostri riti pasquali della nostra regione. Un'attività, quella della vostra associazione, che si spinge anche ovviamente alla promozione turistica della regione? Eh beh sì, è un percorso che ormai sono quasi dieci anni che portiamo avanti e devo dire che quest'anno finalmente e da tempo speravamo in un contatto con gli amici spagnoli per un fatto culturale, per un fatto di tradizioni, ci sono molti elementi che ci accomunano a loro e quindi noi siamo felici e allo stesso tempo ottimisti che prossimamente possiamo ancora di più ampliare un percorso di conoscenza reciproca, di sviluppo culturale e turistico non solo per quanto riguarda la città di Valladolid ma per l'intera nostra regione.